In questo numero, Covid, contributi affitti per 180.000 famiglie toscane, che hanno partecipato al bando straordinario della regione, via libera alla costruzione di 62 nuovi alloggi ERP. Tubone della Valdinievole, lavori al via, è l'infrastruttura fognaria che collegherà i reflui di tutta l'area. È nata la Fondazione Alinari per la fotografia, firmato l'atto costitutivo, l'amministratore unico è Claudio Rosati. Rems di Empoli, inaugurati nove posti, nella prima area abitativa della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. L'assessore alla casa Vincenzo Ceccarelli ha presentato le ultime misure varate dalla regione per fronteggiare l'emergenza casa, a partire dall'esito del bando straordinario per i contributi affitti varato nel piano dell'epidemia di Covid-19 e che tutti i comuni toscani hanno pubblicato. Sono 18.000 le famiglie che hanno partecipato e che al termine della selezione delle domande potranno ricevere un contributo straordinario sull'affitto. Gli aiuti riguardano in particolare i cittadini che nei mesi di aprile, maggio e giugno si sono ritrovati con il reddito ridotto di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un altro requisito era un reddito ISEE non superiore a 28.684 euro. Chi rientra in ambedue i parametri può avere un contributo pari a metà canone di locazione per tre mensilità. Le domande che sono contenute nelle gradatorie di tutti i comuni della Toscana sono 18.000. Se tutti avranno diritto ai tre mesi che erano il massimo previsto, si tratta di un contributo di 13 milioni di euro. Se invece alcune famiglie, alcune persone avranno diritto a mensilità inferiori, ci sarà un risparmio che ci consentirà comunque di destinare parte di quelle risorse ai contributi ordinari. Nel 2020 la regione ha stanziato per i contributi affitti 23 milioni di euro, più del doppio rispetto al 2019. Un risultato importante frutto della collaborazione tra la regione e i comuni e frutto anche di un'attenzione avuta da parte del governo che, come la ministra De Micheli, che devo ringraziare, ci aveva promesso, ha destinato alla Toscana 9,3 milioni straordinari, che sono quelli appunto che serviranno, assieme a quelli di cui già disponevamo, per far fronte ai contributi straordinari, a contributi ordinari e all'amorosità incolpevoli. L'impegno della regione per la casa non si ferma ai soli affitti. La giunta regionale ha dato il via libera alla realizzazione di 62 alloggi ed edilizia residenziale popolare. L'operazione riguarda comuni con meno di 30 mila abitanti, in particolare Stia, Montespertoli, San Piero Assieve, Massa Marittima, Porto Ferraio, Pietrasanta, Guardi Stallo, Pescia e Monteroni d'Arbia. Costo dell'operazione 10 milioni di euro. Sono entrati nel vivo con l'avvio della realizzazione della prima condotta lunga circa 10 chilometri i lavori del primo lotto del cosiddetto Tubone, il maxi collettore fognario, che una volta a regime convoglierà i reflui che arrivano al depuratore di Pieve a Nievole passando per i comuni di Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi e Fucecchio fino al depuratore di Acquarno, a Santa Croce sull'Arno, dove una volta depurati saranno utilizzati per il ciclo produttivo del distretto del Cuoio. Questo primo lotto stagia a Santa Croce fa parte dell'Accordo del Cuoio che prevede investimenti per 195 milioni di euro. Regione Toscana, Acqua e Spa, Autorità Idrica Toscana e Consorzio di Bonifica vogliono riorganizzare lo schema depurativo della Valdinevole e del Basso Valdarno, diminuire l'impatto ambientale dei reflui e proteggere il padule di Fucecchio. Noi veniamo da una gestione in economia che ormai affonda dietro nel tempo dove ogni comune aveva il suo piccolo depuratore. Sono depuratori che oggi ovviamente sono obsoleti e non più adeguati rispetto alle necessità del momento e questa opera consente da un lato di superare questa frammentazione e questa gestione anche poco efficiente e di offrire nuove opportunità a questi territori. Il tutto, ripeto, con il grande apporto di un distretto produttivo fondamentale che ricevendo reflui migliora anche il proprio ciclo produttivo. I lotti dell'Accordo sono quattro e quello partito oggi verrà terminato nel 2021. Questo progetto mette insieme territori diversi ma vicini, combinando le esigenze in un sistema virtuoso. L'obiettivo è quello di andare avanti non solo con l'area della Valdinevole di cui oggi si inaugura i lavori ma anche di realizzare le altre parti di questo grande progetto che riguardano la Valdera e l'Empolese. Per cui alla fine dovremo riuscire a ottimizzare, a razionalizzare qualche decina, forse anche un centinaio di piccoli depuratori che vengono eliminati e porteremo tutti gli scarichi nella zona del cuoio a beneficio delle concerie che così potranno non prelevare più l'acqua di falda dalle falde che sono molto in difficoltà e usare quest'acqua depurata per il proprio ciclo industriale. Questa razionalizzazione della depurazione civile riguarda 300.000 abitanti della Toscana centrale. L'obiettivo principale, soprattutto dal nostro punto di vista come gestore del servizio idrico integrato è quello di smantellare depuratori, ormai vetusti, che fanno fatica a svolgere il loro lavoro anche se continuano a scaricare secondo norma e convogliare tutto verso i depuratori di dimensioni più grandi che hanno la capacità sicuramente di riuscire a dare un refluo finale, uno scarico finale di qualità superiore. In aggiunta a questo c'è il fatto che il depuratore di Pieve Agnevole rimarrà parzialmente in servizio per poter dare acqua direttamente al Padule, un invaso che sta realizzando il Consorzio di Bonifica, l'invaso del Coccio, acqua che servirà per garantire un equilibrio alla fauna e alla flora del Padule di Fuscecchio. La Regione Toscana ha costituito formalmente la FAF, acronimo della Fondazione Alinari per la fotografia, nelle immagini vedete il Presidente della Regione Enrico Rossi che firma l'atto davanti al notaio, ultimo atto di un lungo percorso prima dell'acquisizione dell'archivio Alinari e poi per la creazione dell'organismo che gestirà il patrimonio rappresentato da migliaia di fotografie, negativi sull'astra, apparecchi fotografici, costruito nell'arco di due secoli dai fratelli Alinari, fotografi fiorentini. L'operazione di politica culturale è più importante che abbiamo fatto nel corso degli ultimi cinque anni, abbiamo acquisito il patrimonio, abbiamo individuato gli spazi dove poter allestire e conservare questo patrimonio e consentirne la visita e attraverso poi la Fondazione anche lo strumento che dovrà governare e gestirlo. La Fondazione amministrerà la biblioteca e l'archivio cartaceo Alinari, le attrezzature e la strumentazione tecnica, inclusa la stamperia d'arte, l'archivio digitale con le banche dati, i sistemi di gestione e stoccaggio, i marchi e i diritti d'uso delle immagini riprodotte in numerosi formati. Penso che questa iniziativa assumerà sempre più valore anche sotto il profilo economico, sono sicuro e sereno che se tra cinque anni si farà una valutazione di questo patrimonio costerà molto di più, sarà valutato molto di più di quanto noi non l'abbiamo pagato e quindi anche dal punto di vista economico per la Regione è senz'altro un'acquisizione positiva e importante. La Regione ha individuato anche un amministratore unico per la nuova fondazione nel dirigente regionale Claudio Rosati, già responsabile del settore musei della Regione. Tutti i toscani conoscono il patrimonio eccezionale degli alinari, dei fotografi alinari, fanno parte della storia fotografia ma della storia della cultura europea in generale. Quindi il fatto che la Regione toscana abbia intanto messo in salvaguardia pubblica questo patrimonio e abbia costituito una fondazione fa sperare per il futuro di questa importante collezione. I benefici saranno quelli di mettere a disposizione del pubblico, di tutti i cittadini toscani, ma non solo ovviamente, di tutti i cittadini degli studiosi questo patrimonio straordinario. La fondazione avrà sede presso Villa Fabricotti che al termine di un intervento di ristrutturazione diventerà anche la sede dell'omonimo museo. Io dovrò traghettare, sarà il mio un compito di pochi mesi, dovrò traghettare diciamo questo momento alla piena efficienza della fondazione quando avrà tutti i suoi organi a partire dal Consiglio di Amministrazione e del Direttore. È pronta la prima area abitativa della REMS di Empoli, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza inaugurata nella frazione di Pozzale alla presenza delle autorità regionali e locali. La struttura, realizzata dopo la conclusione della prima fase di trasformazione della ex casa circondariale, è destinata alla cura dei pazienti autori di reato affetti da infermità o semi-infermità psichica. Dopo l'apertura della REMS di Volterra nel 2015, in seguito alla legge del 2014 che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari, la nuova REMS è la prima struttura di riferimento per i territori della ASL Toscana Centro e la seconda a livello regionale. Per il momento la prima area abitativa della REMS di Empoli potrà ospitare 9 pazienti, solo uomini. A lavori completati si potrà arrivare a 20 pazienti. Questa struttura va un po' a dare un ulteriore contributo, a mettere un ulteriore tassello nell'attuazione della legge 81 per le persone affette da una infermità mentale che abbiano commesso dei reati. È l'obiettivo che abbiamo raggiunto dopo un percorso molto lungo che ha visto tanti attori intorno a un tavolo, a partire dalla magistratura, la magistratura di cognizione, di sorveglianza, il PRAP, i dipartimenti di salute mentale, la regione, l'azienda sanitaria, tutti insieme abbiamo cercato di provare a dare una risposta a un bisogno che c'era sul territorio successivamente alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. È una bella struttura molto incentrata sulla cura, con però anche tutte le garanzie di sicurezza per i pazienti e per le persone che vivono in questa comunità. In tutto l'intervento di ristrutturazione della REMS è stato di 700.000 euro. La seconda fase dei lavori sarà avviata a struttura funzionante e permetterà di rendere operative due aree abitative al piano terra, destinate a ospitare tre donne e otto uomini.